Qui graficamente li vediamo in linea gialla l'indice Russell, in linea classica bianca con le candeline blu l'S&P 500, che cosa si vede in maniera abbastanza eclatante? Che fino a ottobre, più o meno, l'andamento è stato sovrapposto, comunque fino a ottobre del 2020 si sono mosse abbastanza assieme, poi cosa è successo da fine ottobre in poi? C'è stato un cambio di passo, in particolare delle small and mid cap americane, quindi quelle che sono incluse nell'indice Russell, che non necessariamente sono titoli value, ci sono anche dei titoli grow perché sappiamo che comunque è un indice composto da tantissime azioni, anche se poi dell'universo vastissimo se ne prende una misura inferiore, e vediamo che effettivamente c'è stato un rialzo molto importante del Russell, che ha staccato letteralmente l'S&P 500, poi invece a partire da febbraio, in realtà marzo, e questo periodo non è casuale, vediamo che il Russell si è praticamente immobilizzato, si è incanalato in un range abbastanza ridotto, mentre l'S&P 500 ha continuato a crescere arrivando sui massi. Perché sta succedendo questo? Molto è legato al tema dell'inflazione, per molti mesi in America si è parlato di inflazione in maniera molto preoccupante e anche il decennale, che in questo grafico nella parte inferiore, in colore viola, che adesso sto andando a evidenziale, lo vedete, è cresciuto praticamente da 0,85 fino ad arrivare a 1,72 proprio il 19 marzo. In concomitanza con questo rialzo del decennale c'è stata tensione sui tecnologici istituitoli growth, perché? Perché comunque c'era la preoccupazione che questa inflazione potesse agire più sul breve. La Fed però si è dimostrata molto pronta, e non solamente a parole, ha detto signori noi siamo pronti ad intervenire sui tassi, anche due volte entro il 2023, questo ha spostato immediatamente l'attenzione dall'inflazione a breve a quella più a lungo, e quindi anche l'attenzione sui tassi, tant'è vero che il decennale da 1,72 si è raffreddato rapidamente arrivando a 1,27. Quindi oggi l'attenzione, come dicevo, è spostato più sull'inflazione e sui rendimenti un po' più a medio termine e quelli a breve. E questa dinamica tra l'altro è stata anche anticipata da una sorta di divergenza che vediamo qui. Quindi il ratio, cioè il rapporto tra S&P 500 e Russell in questa parte inferiore del grafico in linea rossa, che effettivamente è cresciuto mentre il decennale iniziava a scendere, e quindi a oggi questa analisi dove ci può portare? Vediamo cosa farà il decennale se arriverà al test di 1,10, 1,15. A quel punto, se dovesse rimbalzare, perché in questo momento c'è in atto un reflection trade, se dovesse rimbalzare a 1,10, 1,15 potrebbe innescarsi un nuovo movimento opposto, ovvero essere favorite più le small e mid cap e il settore più large cap, più mega cap, magari prendere una pausa e andare quindi a quel punto a correggere. Questa dinamica ci può portare addirittura all'apertura di uno spread trading, cioè un'operazione contestuale rialzista sul Russell, ribassista sull'S&P 500. Quindi questo è il grafico e a questo punto vado a condividere nuovamente lo schermo per farvi vedere all'interno del sito di BNP Paribas e quindi ditemi se ci siamo. Ci siamo. Perfetto. Torniamo nuovamente in home page, sul Nasdaq non lo facciamo adesso perché comunque il percorso è esattamente lo stesso, lo facciamo per il Russell, quindi scegliamoci il nostro indice, in questo caso Russell 2000, abbiamo detto, facciamo un'operazione contestualmente, long Russell short S&P 500, puntando sulla convergenza verso la media e soprattutto su quella che può essere una tendenza del Russell a far meglio dell'S&P 500, non domani, questo è un trade che potrebbe durare anche fino a fine anno per capirci, quindi non è un trading di breve, perché? Perché le dinamiche legate chiaramente all'inflazione e a quello che è l'andamento del decennale non si esauriscono in una settimana. Quindi andiamo long sul Russell, effettuiamo la ricerca e abbiamo qui sei strumenti differenti, non è indicata la leva, ma anche qui in maniera abbastanza semplice quanto quota il Russell in questo momento, qui non c'è scritto, ma comunque in dipendenza di quello che è il prezzo, ad esempio vediamo il primo costa un euro, il primo certificato, il secondo 4,42 anche proprio per chi non dovesse avere nessuna idea, dal prezzo si capisce quanto è la leva, quello che costa un euro vorrà dire che ha una leva più alta, quello che costa 4,42 vuol dire che ha una leva più bassa, pertanto in base al tipo di trade che voglio fare vado a scegliere lo strumento, quindi vado a cliccare ad esempio sulla scheda, facciamo una cosa, una via di mezzo su una leva 3 ad esempio, leva 3 che ha un livello di knockout a 1.881 punti contro un livello di Russell di 2.209, quindi sono circa 400 punti, sono un 20% di distanza. Quindi Russell, andiamo long, qui c'è la parità, cioè vuol dire quanti punti indici controllo con un certificato, questo ci può servire per capire quanti ne dobbiamo comprare e allo stesso modo una volta coindividuato quanti euro voglio investire sul Russell long, gli stessi euro li vado a investire sull'S&P 500 short, perché ricordiamo che questo tipo di strategia si basa sull'investimento con lo stesso identico capitale long e short, quindi non bisogna andare più long che short, altrimenti naturalmente si prende una direzione. Quindi abbiamo scelto Russell 2000, ecco l'S&P 500, in questo caso clicchiamo su short, vedete si è colorato in blu il tastino dello short, effettuiamo la nostra ricerca e qui abbiamo a disposizione turbo short con scadenza dicembre 2021 o turbo unlimited che sono appunto quelli senza scadenza e potremmo utilizzare anche una leva abbastanza simile per i due strumenti. Ripeto, questo non è un trade che si esaurirà, a meno che si abbia il sempre benvenuto colpo di fortuna e quindi entriamo domani e l'operazione gira immediatamente a nostro favore, ma bisogna dargli tempo, perché comunque qualsiasi tipo di analisi basata su analisi tecnica piuttosto che analisi grafica fondamentale o intermarket sarebbe bello riuscire a indovinare il timing perfetto di ingresso. Si studia, si studia anche il piano B ma comunque si parte dal presupposto e potrebbe impiegarci un po' più di tempo per realizzarsi. Viceversa, per chi volesse fare un trade di breve, abbiamo visto Fuzzi Mib che si studia anche il tempo per realizzarsi, abbiamo visto Fuzzi Mib